segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tiziana riparto da te perché hai coperto e raccontato moltissime guerre in questi anni nel corso della tua esperienza e hai scritto anche libri su questo l'inferno di cherson che ci ha raccontato alfredo bosco parla di persone che continuamente provano a vario titolo a fuggire dalle bombe dei bombardamenti che sono continui forse il fronte più caldo come ricordava giustamente luca in in questo momento cosa questa guerra secondo te è diversa dalle altre se è diversa ma sì lo è lo è soprattutto perché è qui a casa nostra ci tocca da vicino ci riguarda perché è una guerra che sappiamo perfettamente cioè si sta consumando in europa e quindi è difficile non sentire il peso delle bombe che cadono su città che sono così vicine a noi no cioè certe città del dell'ucraina sono molto più vicine di di alcune città che stanno in sicilia ecco no rispetto a trieste per esempio quindi è in un momento come questo di freddo cioè i civili sono quelli che stanno pagando tantissimo e ne abbiamo ospitati tanti noi ne stanno ospitando tanti paesi europei che confinano con con l'ucraina quindi tocchiamo con mano il dolore di queste persone provate a immaginare che cos'è restare senza riscaldamento senza elettricità in un paese così con inverni così rigidi meno 20 gradi è capito quindi il la strategia russa di putin è quella di colpire soprattutto i civili attraverso le infrastrutture perché quando hai la popolazione che se ne va comunque il paese non non ce la fa più non vive più non funziona più e sono milioni gli ucraini che hanno lasciato le loro case quindi è anche per questa ragione che ci tocca così da vicino certo è una guerra che si sta prolungando troppo no arrivano segnali contraddizione continuamente putin sembra che voglia trattare poi senti lavrov il suo ministro degli esteri e senti che le minacce diventano ancora più forti però è evidente che si sta andando verso una trattativa non riusciamo a capire se sarà febbraio quando sarà però la sensazione è che tutti abbiano voglia comunque di provare a sedersi attorno a quel tavolo certo la posta in gioco è ancora tutta quella da discutere perché sembra che appunto i russi non hanno intenzione di cedere su niente gli ucraini giustamente stanno difendendo il loro paese e quindi però le guerre si chiudono con degli accordi e non c'è mai un vincitore direttore tarquinio mi fa piacere mostrare dal sito